E' il giorno del record, il giorno dei mille iscritti a un torneo di poker. Malipo non è solo numeri, per quanto entusiasmanti, ma anche e soprattutto Texas Hold'em giocato. Sono 247 gli iscritti che si uniscono ai 234 del Day 1A per un Day 1B che si annuncia appassionante. Del resto la prima moneta, come anticipato, supera i 100.000 franchi svizzeri e a fronte di un investimento di 550, come si dice in gergo, è tanta roba. A condurre i giochi c'è Vittorio Troccoli con le sue 297.000 chip. I bui sono a 1200-2400 e per lui il margine di manovra è certamente ampio. Ma anche per tanti altri giocatori, perché a Lipo si guarda i record, ma si sa che si ottengono rispettando chi si iscrive e la struttura giocabile la fa, come sempre, da padrona.